Sono purtroppo finite le ricerche della bella Justin Bailack, sono finite i giovedì 27 ottobre, ieri, ragazza di 20 anni, origine francese, di cui si era perso ogni traccia nel fine settimana e stata ritrovata priva di vita a disegrare il corpo, sarebbe stato il presunto omicida, un ragazzo che conosceva bene la vittima di 21 anni di età, il quale pensate che ha fatto sapere di averla da prima giurentata e poi fatta fuori, quindi uccisa, pensate all'uscita dalla discoteca, la ragazza, madre di un bimbo di 2 anni e mezzo, era scomparsa prima della parte centrale della Francia, era stata vista l'ultima volta alle 4 del mattino, poi aveva trascorso una serata con gli amici, il ragazzo in pratica avrebbe compiuto il bioomicidio, questo ragazzo vi ricordo che ha 21 anni di età e l'avrebbe letteralmente uccisa, ma prima di uscirla l'avrebbe da prima stuprata, quindi violentata, una violenza aberrante, una violenza sessuale schifosa, bastarda e vita, azzardavia. La narrativa italiana, la narrativa italiana è tutto, non posso far altro che dire, giù a stinco e l'altro, che tu possa riposare in pace e che la terra di Sareare abbia concesso che esista una terra o un mondo migliore di questo. Ciao a tutti voi, la narrativa italiana.